L'abuso sessuale all'infanzia è una piaga molto diffusa. Il pedofilo prova verso i bambini un'attrazione sessuale perversa. Non è un mostro, ma è mostruoso quello che fa. Vive perfettamente camuffato, spesso insospettabile, stimato e rispettato dalla gente con cui vive. Sfrutta il nome di cui gode per soddisfare i suoi desideri depravati. Incontrarlo non è difficile. Tra le mura domestiche, nella scuola, all'interno delle associazioni, degli oratori, nel mondo del web. Spesso si fa fatica a credere che sia ciò che è, quando il velo dell'omertà viene squarciato. È una situazione disastrosa. Quante di queste persone sono in circolazione, pronte a colpire senza scrupoli, angeli innocenti?